Oggi proviamo la pizza fatta dai robot. Ne abbiamo scelto una classica margherita, andiamo a vedere come viene fatta. Per prima cosa esce l'impasto da un buco, viene poi pressato e cosparso il pomodoro. Dopo aver aggiunto gli ingredienti che abbiamo scelto, la pizza finisce in questo forno elettrico. Dopo 5 minuti la pizza è pronta per essere tagliata. Per ritirarla ricordati di non buttare lo scont...